Federico Zampaglione sulla bici di Radio No Un saluto a tutti quanti, venite venite qui da Feltrinelli che stiamo per presentare il nuovo album che è uscito il 18 marzo, Indagine su un sentimento è circa una settimana che la Sony vi tiene in giro a fare pubblicità da tutte le parti sono stanco morto, potrebbe venirmi un colpo ciao ragazzi, ciao ragazzi facci sentire un po' il sentino, dai il pitornello Everybody needs somebody to love Drama to love Somebody to love Ciao I need you, you, you I need you, you, you Ce lo fai un saluto da Radio Rock, vede? Un saluto ragazzi, Radio Rock è grande, come sempre verremo presto da voi Ciao